Dopo una stagione da dimenticare con la sconfitta nel derby drammatico di play-out con lo Scerni, Real San Giacomo si prepara alla nuova stagione col tentativo di tornare nel campionato dove è stato per diversi anni la prima categoria raggiunta con grande entusiasmo negli anni scorsi e che può essere sicuramente alla portata. Ma chiediamo al Presidente Leandro Giacomucci che cosa hanno combinato in fase di campagna acquisti per questo campionato e quali sono le prospettive. Allora, a parte che l'anno scorso abbiamo avuto un sacco di problemi quindi purtroppo siamo retrocessi. Quest'anno puntiamo alla vittoria del campionato, non direi, però comunque siccome non vorrei retrocedere di nuovo l'unico obiettivo è quello di provare a salire. Niente, abbiamo confermato il mister e i fruguglietti, i più esperti, abbiamo ringiovanito la squadra, comunque ci sono molti ragazzi e puntiamo a divertirci più che altro, non tanto a vincere. Quest'anno avete già avuto modo di sentire cosa stanno combinando le altre per regolarvi un po' sul da farsi? Per sentito dire perché veramente stiamo pensando più a noi, però so che ci sta il Paglieta che si riconferma la squadra dell'anno scorso, comunque stava con noi in prima, sicuramente sarà una squadra di vertice. L'Odorisiana che sta raccogliendo i giocatori del Montodorisio che non si è riscritto in prima, quindi penso siano queste le squadre favorite e poi ci siamo noi. Fino a questo momento abbiamo seguito la squadra tra l'altro nel memoria Arracciatti di Casalbordino ma con un organico ancora da definire così come altre squadre. Voi intendete muovervi in qualche ruolo specifico? Diciamo che soprattutto dobbiamo registrare la difesa perché abbiamo mandato via qualche ragazzo che giocava con noi l'anno scorso, adesso ci sarà un centrale e un terzino penso prenderemo. Poi dobbiamo definire dei prestiti da una società dalla Cicerni, anche dal Casalbordino se ci vogliono lasciare qualche ragazzo e tutto qua. Questa sarà la nostra squadra.